ciao a tutti ragazzi ve l'ho menata per un sacco di tempo ve l'ho nominato tante volte vi ho portato dei risultati concreti qui sul canale dei video creati appositamente seguendo una linea guida utilizzata all'interno dei corsi che ho seguito di match analysis e ora finalmente era arrivato il momento di parlarvene ma che cos'è un corso di match analysis partiamo da questo presupposto perché qualcuno mi ha detto finalmente inizia a dire cose più sensate si vede che stai seguendo un corso di tattica questo è il commento che mi ha fatto più ridere in assoluto mi ha fatto piacere però era anche sul filone dell'idea che prima di quel momento invece dicessi cose senza senso invece il corso mi avesse aperto la mente non è niente di tutto questo perché all'interno del corso non ti spiegano il calcio quella è una cosa che devi avere dentro te ovvio che l'esperienza quante partite guardi da quanto segui il calcio quando hai iniziato a vedere il calcio in un'altra maniera diversa dal semplice mi metto sul divano e guardo la partita e questi erano tanti piccoli concetti che avevo già iniziato da un po di tempo a questa parte principalmente perché portandovi dei contenuti su youtube è impossibile ridurre all'osso nel senso abbiamo vinto la partita abbiamo fatto cinque tiri in porta abbiamo avuto il 13 per cento di possesso palla numeri a caso non è questo e volevo darvi quel qualcosa in più e quindi mi sono iscritto a questi due corsi quello base e quello pro e li ho superati entrambi sono contento di potervi dire addirittura con il cento per cento di valutazione in tutti e due gli esami ma questa cosa non mi ha insegnato il calcio mi ha bensì insegnato a vedere il calcio in un altro modo perché i corsi che ho fatto non avevano nulla davvero nulla di voglia di cambiare la vostra idea o come dover apprezzare una partita perché quelle sono cose soggettive mi ha semplicemente insegnato a vedere alcune cose in maniera più oggettiva possibile capire quali sono le statistiche che vengono utilizzate nei match analysis professionisti e soprattutto darmi la possibilità un domani di diventare un match analysis professionista e lavorare in serie a lavorare con la nazionale lavorare in premier league lavorare un po dove volete perché in questo momento ufficialmente potrei davvero lavorare in serie a per una squadra per la juventus se domani mi chiamo la juventus e mi offre un contratto per diventare match analysis della juve io potrei benissimo accettarlo perché ho conseguito questi due diplomi questi due attestati che mi permettono di poter svolgere correttamente il mestiere dato che sono riuscito ad avere delle nozioni di base di quello che solitamente cercano gli allenatori perché il match analysis è un po il braccio destro dell'allenatore va ad analizzare le partite delle avversarie che si andranno ad affrontare va a preparare una specie di report che verrà sottoposto sotto forma di video sotto forma di analisi scritta un po come appunto avevo fatto sul canale con due o tre video di questo tipo e poi va a individuare i punti deboli i punti forti delle squadre come iniziano le azioni come le sviluppano come vanno a finalizzare e ovviamente mettere il pallino no il punto esclamativo attenzione perché questa squadra che andiamo ad affrontare si muove in un certo modo piuttosto che nell'altro quindi possiamo cercare di arginare tatticamente questa bla 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 quindi sono tutte queste cose che ti permettono no di farlo ma facciamo un passo indietro perché ho fatto questo corso di match analysis perché ero veramente affascinato no avevo questa volontà di aggiungere cosa il mio bagaglio culturale in rente al calcio conoscevo emilio perché i due corsi sono stati fatti sulla sua piattaforma emiscouting emilio è un match analysis professionista che da anni lavora all'interno della serie a e anche osservatore per un club di serie a stiamo parlando di una persona che lavora davvero nel calcio ha stretto contatto con i dirigenti con gli allenatori con i calciatori lui lavora tutti i giorni della sua vita per cercare di migliorare la qualità del club per il quale appunto sta svolgendo questo servizio quindi è un professionista del settore e i corsi entrambi i corsi sia quello base sia quello pro sono stati tenuti da lui come funziona vi scrivete avete la volontà di fare questo corso e vi arriverà direttamente sul vostro sulla vostra email un link e un codice con cui poter accedere all'area nell'area riservata appunto troverete i video suddivisi per capitoli no questi due corsi suddivisi per capitoli questi sono i due che ho svolto io in cui emilio andrà a spiegarci le diverse fasi la costruzione di quello che è il report che dovremo consegnare poi all'allenatore per preparare la partita emilio si guarda mille no duemila partite tutti gli anni per cercare di capire come le squadre avversarie andranno a affrontare le squadre per cui lavoriamo emilio in questo momento in realtà sta facendo l'osservatore a tempo pieno lo ha fatto in passato come match analysis può fare tutte e due le cose ovviamente sul suo sito c'è anche la possibilità di fare i corsi per scouting quindi se volete diventare scout no volete diventare osservatori volete andare a cercare il prossimo holland il prossimo mbappé prossimo vlaovic potete tranquillamente farlo per il momento non ho in mente di fare quei due corsi ma in un domani assolutamente sì perché è un'altra cosa interessante che voglio aggiungere anche questa al mio bagaglio culturale dicevo andate sul sito vi lascio il sito di emi tra l'altro qui sotto in descrizione anche il tag al suo canale youtube perché lui è un canale youtube su cui posta numerose volte dei contenuti che appunto vanno riassumere quello che fa di mestiere nella vita e va a spiegarvi anche come va analizzato il calcio nel migliore dei modi e quindi potete andare benissimo a informarvi da lui la cosa veramente indispensabile che voglio lasciarvi con questo video è che conviene farli questi corsi conviene farli perché i prezzi non sono alti anzi sono accessibili a tutti magari in questo periodo avete voglia di farvi un regalo di natale per migliorare quella che è il vostro bagaglio come ho semplicemente fatto io inerente al calcio e potete iscrivervi ai suoi corsi che sono veramente facili il primo me lo sono guardato in treno stavo andando a milano a trovare brogna e mastrangelo e la prima parte del primo corso me lo sono guardato in treno quindi veramente una facilità di utilizzo fuori dal comune è appunto come diceva prima un corso tenuto da professionisti del settore da gente che lavora nel calcio e poi vi dico la verità al termine di questi corsi avrete all'interno del sito di emi una pagina che si chiama lavori disponibili dove man mano tempo ogni volta che ci sarà un'offerta di lavoro comparirà sul sito io ad oggi l'ho fatto per aumentare quello che so per cercare di offrirvi un servizio diverso perché lo sapete da un mese a questa parte ho deciso di diventare un content creator a tempo pieno e quindi volevo portarvi dei contenuti anche diversi però non vi nascondo che l'idea di fare questo di mestiere un domani per una società è qualcosa di affascinante e sicuramente lo prenderà in considerazione perché il match analysis lavora anche sul campo va allo stadio riprende le partite crea delle mini clip va a creare delle lavagne tattiche quindi è una parte da ufficio una parte di studio quello che faccio tutti i giorni nella creazione di video ma c'è anche quella parte di campo che sinceramente in questo momento mi manca mi manca perché non la faccio e mi manca perché la vorrei fare soprattutto perché post covid mi sono veramente reso conto che passare tutti i giorni della mia vita in ufficio in uno studio in una camera a fare cose a computer non faceva più per me questo è anche uno dei motivi per cui ho deciso di lasciare il lavoro e fare solo questo nella vita in modo da potermi organizzare le mie giornate al meglio se ho voglia di andare a fare una passeggiata me la vado a fare se ho voglia di andare a fare la spesa me la vado a fare e quindi ho la possibilità anche di respirare e passare del tempo libero sul campo da calcio o comunque tempo libero tra virgolette perché poi sarebbe un lavoro in questo momento è una cosa che mi affascina ma che non posso utilizzare adesso perché ovviamente per il momento voglio concentrarmi sul mio progetto legato a youtube legato a twitch legato a instagram in tutti i miei social network che trovate comunque qui sotto in descrizione la cosa più bella guardate in assoluto è una cosa che emi mi ha detto subito appena partiti subito in questo corso non cercherò di mettervi in testa la mia verità in questo corso la cosa principale da ricordarsi è una e una sola che non si parte dalle statistiche per costruire l'analisi si guarda la partita ci si fa un'idea poi si vanno a vedere le statistiche si cerca di capire se quelle statistiche sono a supporto della tua idea se è così significa che avevi ragione se non è così significa che probabilmente ti sei fatto un'idea sbagliata e va rielaborata perché è una cosa che cerco sempre di passare se si parte dalla conclusione e si costruisce intorno il ragionamento per far sì che quella conclusione funzioni non stai dicendo la verità non stai analizzando in maniera oggettiva la realtà la partita la situazione stai cercando di far passare un messaggio che è quello che vuoi te che è ben diverso quindi se tu parti dall'idea che le statistiche vanno a costruire poi il ragionamento allora ti molla tutto infatti emi ti fa vedere no diverse partite che nel corso degli anni anche partite storiche hanno avuto delle statistiche che tu dici va questa partita sarà finita in questo modo poi finita nel modo opposto mi viene in mente il napoli spezza dell'altro giorno no che lo spezza e vince 1 a 0 senza mai fare un tiro in porta affidandoci solo alle statistiche andremo a vedere una partita impossibile avremmo detto il napoli ha vinto 3 a 0 4 a 0 invece no il napoli è perso per 1 a 0 partendo dalle statistiche saremo andati a costruire un discorso che non è quello reale è il discorso che vogliamo far passare noi quindi è diverso queste sono cose che apprezzo un sacco e quindi niente queste erano le cose che vi volevo dire io sono contento perché al di là del commento che vi ho citato prima del stai instante a dire cose più sensate ci sono stati davvero tanti altri commenti che mi hanno fatto un sacco piacere ce n'è uno in particolare che mi è arrivato in direct non posso dirvi da parte di chi non posso dirvi da parte di chi stiamo parlando dell'analisi tattica relativa juventus genoa ma quando l'ho letto mi sono fatto una bella pacca sulla spalla da solo perché non avrei mai pensato che quella persona potesse vedere i miei video e poi dirmi bravo hai fatto un bel lavoro e mi fermo qua perché sto già andando fuori tema e quindi niente magari un giorno ve lo potrò dire mi farebbe piacere veramente raccontarvi questa storia perché è veramente incredibile niente questo era quello che volevo dirvi sui miei corsi di match analysis perché in tanti mi avete chiesto ne vale la pena dovrei farli ma che cosa si fa cosa impari alla fine che cosa succede che avete i vostri attestati io adesso devo costruirmi il curriculum fatto bene da quando mi sono licenziato il nuovo curriculum perché è iniziato una nuova vita in cui inserirò sicuramente questi corsi anche su linkedin e poi il giorno che deciderò di provare anche questa strada e di buttarmi all'interno del calcio professionistico magari non direttamente alla serie a perché ovvio non è facile partire bam la juventus bam il buyer di monaco no magari parti da delle categorie inferiori vai a costruire comunque le partite vai ad analizzare partite vedi tante partite incontri tante persone entri in contatto anche con visioni diverse quindi veramente più ci penso più questa cosa mi gasa perché mi piacerebbe un sacco farla e sono sicuro che nel momento in cui deciderò di farla mi butterò a testa bassa anche in questa avventura vi consiglio assolutamente di almeno passare sul sito di emi farvi non lo so un'idea andare a leggere quello che sono anche le recensioni perché non dovete assolutamente fidarvi solo di me io sono sempre del partito del mettere in dubbio tutto e tutti quindi informarsi da tutte le parti non focalizzarsi solo su un'unica fonte magari parlate anche con lo stesso emi anche su instagram che sicuramente vi risponderà in maniera velocissima e questo era la mia esperienza nel corso di match analysis potrei lavorare in serie ma vi rendete conto uno come me che potrebbe lavorare in serie e preparare le partite cioè gli allenatori verrebbero esonerati dopo 15 minuti grazie